Oggi l'Italia è un gran carcere, ma i poliziotti italiani, il governo italiano, cosa sono? Sono i guardiani di prigioni della Francia. Il problema è francese, perché il nostro governo ha chiuso i confini e noi francesi vogliamo lottare con voi perché quel governo di ladri, quel governo Hollande-Vance, apre il confine francese, perché dovete passare, questo è un problema di libertà. Bravo! Ouvre le frontiere! come il soggetto dei membri di Fanky Bine. Il presidente del francese ha parlato di quello che diceva che gli dici che si accerano il freddo. Perché tutti i amici sono stati e li dobbiamo ad amare per capire il mese. Ma ci sono aspettati che gli dici che si accerano il freddo e si accerano il freddo. Questo è il nostro canale per farò di Ferencia. Friigel! 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 e 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